Seconda giornata del congresso di medicina omeopatica della Liga qui a Siviglia. Siamo in questo meraviglioso quadro, mi tolgo un attimo per farvi vedere la stupenda, la splendida piazza di Spagna, che sembra la piazza più bella del mondo. Facciamo questo report da questa piazza perché mi piace andare in giro per la città, ma soprattutto anche per far vedere un po' le bellezze di questo posto. Allora, oggi giornata pienissima, i temi vanno dal cancro alla patologia neurologica, alla cardiovascolare, alla necessità di ospedali anche chiaramente in Europa, al problema dell'integrazione della medicina omeopatica nei sistemi di salute pubblica, alla pediatria. Una grandissima partecipazione di speaker indiani, ma grandi maestri anche, che vengono un po' da tutte le parti del mondo. Spinedi e Farouk Master, che si sono concentrati sulle questioni legate al tumore. Il nostro Elio Rossi, che è certamente una punta di diamante all'interno del processo di integrazione della medicina omeopatica nel sistema sanitario pubblico, davvero a livello mondiale che ha illustrato cosa succede in Toscana per l'integrazione delle medicine non convenzionali, ma adesso nella sua qualità di responsabile per la regione toscana delle medicine complementari, si occupa praticamente di tutto il network di ambulatori pubblici che hanno dei servizi di medicine complementari. Ci ha presentato anche un recente paper, questo lo dico per gli italiani naturalmente, un recente paper in cui si parla dell'approccio complementare in oncologia. Quindi anche la regione toscana ha aperto gli ambulatori anche ai pazienti oncologici per dei trattamenti complementari e all'interno di questi trattamenti complementari in molti casi c'è l'agopuntura per i problemi, per le problematiche legate al dolore, ma l'omeopatia non sfigura tra le terapie che sono richieste in complemento del trattamento convenzionale oncologico. Abbiamo avuto anche degli interventi molto interessanti di Carlos Campora che è un argentino che si occupa della medicina cosiddetta omeopatica di precisione, cerca casi molto complessi e indica qual è la strada per risolverli. Abbiamo avuto certamente un intervento interessante, devo dire è molto appealing per le persone che si occupano di questioni legate all'integrazione ed è stato l'intervento di Joseph Schmitt che è uno storico, che è un filosofo tedesco che lavora a Lubecca ed è interessante il suo approccio perché lui dice dobbiamo cercare di integrare la medicina omeopatica ma bisogna cambiare anche il concetto di medicina, quindi ha allargato il discorso alla medicina nella sua totalità. Come dicevo c'è stato anche l'intervento di Vitulcas e di Sankaran, Vitulcas anche che si è occupato di raccontare secondo lui cosa è meglio per permettere il riconoscimento della medicina omeopatica insistendo molto sull'insegnamento. Vorrei anche aggiungere la presenza e l'intervento finale anche se purtroppo non l'abbiamo sentito interamente anche di Gustavo Cataldi. Gustavo Cataldi che è stato uno dei presidenti della Liga che ha provato un approccio filosofico al problema della medicina omeopatica in relazione alla medicina, la conoscenza scientifica e la relazione tra la medicina omeopatica e la conoscenza scientifica. Ecco più o meno ho provato un attimo ad illustrarvi l'insieme delle relazioni ma considerate che naturalmente ci sono state quattro sessioni, tantissimi interventi, una partecipazione sentita perché questo congresso raccoglie circa 800 delegati e naturalmente un grande interesse per tutte le attività di cui ho appena parlato. Così si conclude in questa splendida piazza, vi la lascio ancora a vedere, venire qui è stata una sorpresa, sembra di stare nel paese delle favole e magari ve lo consiglio, andate in vacanze a Siviglia, prendetevi due giorni e fatevi un weekend a Siviglia. Buonasera.